I carabinieri della stazione di Monte Porzio hanno arrestato un cinese 45enne del posto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti verso la moglie, fatti commessi anche alla presenza dei figli di 16 e 12 anni. I due connazionali di recente si erano trasferiti a Monte Porzio provenienti da Fano. Già sposati in Cina, dopo una prima separazione, i due si erano ricongiunti in Italia. L'uomo sin dall'inizio del rapporto ha avuto sempre comunque un carattere violento, considerando la donna esclusivamente una cosa di sua proprietà. Per questo ha considerato assolutamente normale sottoporla per anni a violenze, percosse, minacce, ingiurie e costringendola ad estenuanti turni di lavoro in un laboratorio artigianale gestito dallo stesso uomo. Lavoro che non si interrompeva nemmeno al ritorno a casa dove ad attenderla c'erano le faccende domestiche relative alla cura della casa e alla preparazione dei pasti. Per completare poi lo stato di soggiogazione fisica e psicologica, l'uomo pretendeva, nonostante l'implorazione ed i pianti della donna, rapporti sessuali a proprio piacimento. In questa escalation di violenze, l'uomo è arrivato anche a stringere il collo della donna fino a farla svenire. Soccosa dai sanitari, la donna finalmente ha avuto la forza di raccontare l'accaduto allo psicologo dell'ospedale di Fano, il quale ha attivato la procedura ed avviato la donna ad un centro antiviolenza. Contemporaneamente però i carabinieri di Monteporzio hanno avviato un'immediata indagine, trovando subito riscontro alla denuncia della donna attraverso le dichiarazioni di amiche e soprattutto dei figli. Alla luce di tutto questo e del materiale raccolto, il PM ha richiesto e ottenuto la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro, dottor Francesco Messina, subito eseguita dai carabinieri di Monteporzio.